SIREN Ricordate Siren? Si tratta di un survival horror uscito nel 2003 per PS2 e riproposto nel 2008 su PS3 con il titolo Siren Blood Course ispirato all'immaginario cinematografico dell'horror nipponico era ambientato in un villaggio fittizio chiamato Anuda la cui popolazione era stata trasformata in terrificanti creature conosciute come Shibito a causa dell'improvvisa interruzione di un rituale mistico per colpa di un terremoto Le atmosfere misteriose e angoscianti che caratterizzavano il gioco erano state ispirate ai suoi autori da un'area rurale abbandonata nei pressi di Kikibu città della prefettura di Seitama grazie ad un'intraprendente troupe televisiva nipponica potete visitarlo senza muovervi da casa e soprattutto senza il timore di essere aggrediti da qualche misteriosa creatura e ditemi avreste mai il coraggio di esplorarla di notte? grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.